Quanto manca a Natale? Ok, ho impacchettato il regalo. Avevo detto che il bambino voleva pure una stellina, che io la do non impacchettata. Vabbè, posso andare a consegnerla alla slitta. Domani andrò con la slitta, con la renna e andrò a consegnare i regali a tutti i bambini. Elfo! Sì, che c'è? Dove si trova la renna? Dall'altra parte, tipo qua vicino alla finestra del salotto, fuori. Ok, grazie Elfo. Di nulla, Babbo Natale, è stato un piacere. Oh mamma, ma quanto manca a Natale? Sto aspettando ore e ore. E non arrivano i miei regali. Ho poi scritto la letterina Babbo Natale e lui ogni giorno non arriva. Che strano! Devo chiamare Bing. Bing! Sì, che c'è? Quanto manca a Natale? Winnie the Pooh! Ma per Natale manca solo un giorno. Wow! Quindi domani è Natale? Certo, il 24 dicembre è Natale. Oggi è il 23. Ok! Dai, muoviti! Vai a lavarti i denti e vai a dormire che è tardi! Ok? Prima mettiti il pigiama. E per oggi ho finito. Adesso posso prendere un tè con l'Elfo e poi dopo il tè dell'Elfo vado a riposarmi e vado a dormire. Mh, ci vuole proprio un bel tè verde caldo. Elfo, il tuo tè è stato buonissimo! Oh, grazie Babbo Natale! È stato un piacere mio! Hehehehe, Elfo! Adesso vado a riposarmi perché è tardi. Domani devo consigliare tutti i regali ai bambini. E io vado a mettermi il pigiama. Tutti si mettono il pigiama e vanno a letto. Fine prima parte. Ragazzi lasciate un po' di censura e iscrivetevi al canale. Ciao! Ciao!